Il capo redattore di Repubblica ha seguito e coordinato tra l'altro inchieste e approfondamenti di recente scandalo di vendita a dati sensibili di Cambridge Analytica. E' con noi Daniele Bellasio. Il nostro secondo ospite è il presidente del CREMIT, docente dell'Università Cattolica, esperto di tecnologie, educazione e numidea, Piercesa Rivoltella. Il nostro terzo ospite è il direttore dei Post, autore del libro Notizie che non lo erano, e con noi Luca Sofri. Benissimo, cominciamo subito con la prima...